è uno dei temi oggi più noti tutto sommato del di marx ha avuto sviluppi molto importanti e inutile dire che di un'attualità straordinaria tenuto conto del mondo in cui viviamo fatto di mall di supermercati di tutto si vende un mio amico mi ha fatto leggere un articolo oggi abbastanza curioso ma interessante sul nimair grande giocatore brasiliano del paris saint germain adesso che riceve mi pare 375 mila euro per darsi ai tifosi nel senso che il fatto che poi i tifosi lo incontreranno lui per questo solo motivo riceve per contratto questi soldi per dire il livello di marcificazione è arrivato a un punto tale che addirittura il lato diciamo affettivo che dovrebbe essere in un certo senso di contorno è calcolato è calcolato economicamente non si salva proprio niente quindi è chiaro che il tema del feticismo delle merci è incredibilmente attuale talmente attuale che per certi aspetti è perfino quasi ovvio io ci ho lavorato per tantissimi anni cominciai già alla fine degli anni settanta presentai una relazione a e non piuttosto giovane a un congresso del istituto grammici nell'ottantadue mi sembra 81 adesso non ricordo più bene ecco quando allora nel 82 quando allora studiosi intellettuali e politici partecipavano insieme alle cose c'era anche berlinguerre insomma c'era una tradizione un pochino diversa di presenze diciamo rispetto a oggi e dopo di allora ho lavorato molto su questa questione e mi ero soprattutto interessato a fare una cosa che quasi nessuno aveva fatto quasi nessuno ha fatto cioè uno studio genealogico del concetto di feticismo per vedere come ci arrivava marx insomma poi Freud come mai questo questo argomento questa parola è diventata così importante prima di me è un lavoro sul concetto di feticio piuttosto che di feticismo l'aveva fatto un professore della cornell university della brown university di cornell poi basta e io negli anni ottanta ho tentato di fare questo 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 lavoro questo libro che uscì nell'ottantacinque dove ricostruisco la genesi del concetto di feticismo a partire dalla tradizione coloniale perché la parola feticismo nasce col colonialismo la parola feitisso viene dal portoghese e praticamente la parola che usano i coloni portoghese quando in africa vanno a raccattare schiavi e fetiso significava significa fetiso viene dal latino fattizio perché vedevano gli oggetti costruiti che erano dei che venivano adorati da lì che nasce poi il discorso della direzione feticio la parola feticismo invece nasce molto dopo e nasce in un contesto illuministico nel 1760 un presidente charles de bros di digione pubblica questo saggio del culto degli dei fetici che fa la fortuna della parola feticismo è un classico caso in cui la parola più fortuna sia del libro che dell'autore in un certo senso de bros è molto amico di diderot ed è molto legato a davidi hume e infatti parte dell'ispirazione degli studi de bros derivano da hume il quale tre anni prima aveva pubblicato un saggio bellissimo ancora oggi secondo me molto bello che è la natural history of religion la storia naturale religione che è un testo straordinario dove si teorizza hume aveva il mito del degli antonini cioè di marco aurelio di quel periodo romano e si teorizza che in realtà il periodo migliore fu quello quando c'era il politeismo perché il politeismo ha questo vantaggio rispetto al monoteismo presume dei locali che non hanno l'ambizione di essere onnipotenti e dunque riescono a tollerarsi fra loro e questo corrispondeva a un modello che è il modello humeano che era il modello di monteschieri fatto della divisione dei poteri per hume la divisione dei poteri non era un rivoluzionario hume tutt'altro ecco per hume però la divisione dei poteri una cosa che oggi diciamo traballa parecchio era assolutamente fondamentale perché la prima grande vera teoria della divisione dei poteri è di montesquieu chiaramente siamo nel 1748 lo spirito e le leggi quindi il problema del feticismo rientra in un quadro molto particolare di teoria di storia filosofia teoria religioni e ha una grandissima fortuna coloniale nel 1800 in antropologia e poi ci sono marx e freud che rovesciano concettualmente la cosa ecco marx legge il libro di de bros in traduzione tedesca nel 1842 comincia a scrivere dei saggi quando fa attività politica diciamo in cui riprende questa cosa il concetto di feticismo in de bros e poi lo appaia proprio alle merci la moneta nei vari punti soprattutto nel nel suo capolavoro che il primo libro del capitale dove lui dove si trova la vera teorizzazione poi si trova in altri posti ma insomma quella più famosa ma anche effettivamente quella più corposa che questo paragrafo 4 del primo capitolo della prima sezione che il carattere di feticcio della merce è il suo arcano che cos'è una cosa che non l'arcano e non si capisce molto bene e quindi perché in realtà nella prima edizione del capitale marx aveva accennato a felicismo però in realtà aveva messo qualcosa in appendice nella seconda edizione rifà tutto e poi viene fuori quello che se uno ha voglia può andare a vedere quello che poi trovate il testo definitivo l'ultima edizione con marx vivente dove emerge questo questo testo questo è un testo che ha in un certo senso ha cominciato a vivere anche di luce propria e moltissimi marxisti e non hanno ripreso in modo forte ancora oggi il tema del feticismo basta citare per esempio la scuola di francoforte filosofi come adorno per un verso e beniamine per un altro sono sicuramente influenzati e ripropongono rilanciano la teoria del feticismo in un'altra chiave per esempio adorno in chiave estetica in modo molto forte beniamine in una chiave filosofico sociale oltre che estetica poi questo tema del feticismo è stato ripreso da un personaggio secondo me interessantissimo che si chiama Guy Debord il quale ha ritradotto la teoria del feticismo nella chiave del sistema capitalistico contemporaneo per cui ed è interessantissimo è molto importante fra l'altro questo tema perché Guy Debord sposta la questione della merce del feticismo della merce addirittura nel fatto che tutto è spettacolo la spettacolarità della merce porta al fatto che tutto diventa immagine tutto diventa spettacolo quindi anticipando già vedendo ma poi anticipando quello che già stava accadendo e che sta succedendo succederà è accaduto e sta accadendo oggi insomma ecco questo mondo completamente feticizzato completamente merci e quindi anche Debord che è stato importantissimo insieme a Castoriadis e altri fu anche protagonista di un movimento che si chiamava situazionista ed è avuto anche un peso piuttosto non indifferente nel 68 francese quindi appartiene a una storia importante e oggi rivive questo feticismo in modo forte un po' come sta rivivendo in modo abbastanza clamoroso Karl Marx perché dopo la crisi del 2008 dopo la grande embriacatura neoliberale per cui tutti a destra e sinistra pensavano che il mondo andasse verso questa atmosfera di entusiasmo crescita diventa imprenditoriale di se stesso si è flessibile e tutte quelle robe che oggi sono ancora più o meno dominanti anche se un po' si frantumano ecco dopo il 2008 cioè dopo la crisi grave che tutta l'occidente ha avuto pesantissima da cui ancora noi italiani secondo me poi fondamentalmente non siamo usciti tutti si rimettono a studiare Marx e in particolare non solo ma il feticismo della merce perché ritorna per la semplice ragione che l'analisi che fa Marx del capitale ha senso ancora oggi anche se le cose sono fortemente mutate da un certo punto di vista ma la struttura di fondo tutto sommato rimane quella per cui devo essere sincero solo in Italia come posso dire si sente il bisogno quasi di giustificare il fatto che si parla di Marx ma in qualunque posto del mondo a cominciare dagli Stati Uniti c'è una discussione un ritorno a Marx che è quasi imbarazzante da un certo punto di vista nel senso che si fanno convegni internazionali e addirittura siamo quasi al paradosso di tutto questo per cui adesso fioccano perfino libri Marx per manager c'è un po' di tutto insomma nel senso che la svolta del 2008 ha creato una situazione tale per cui bisogna un po' capire da tutte le parti ecco da tutte le parti bisogna un po' capire come funziona questo maledetto sistema in cui noi viviamo la seconda cosa che volevo dire è tutto questo il ritorno a Marx è anche in parte legato a un problema che abbiamo e che si è sviluppato soprattutto a partire degli anni 80 e cioè il fatto che diciamo ha prevalso in tutti destra e sinistra l'idea della Thatcher che il capitalismo non ha alternative quindi non è senso di alternative cade il muro e Berlino finisce tutto anche se a nessuno piaceva insomma all'Occidente non piaceva a nessuno nemmeno a sinistra il mondo diciamo d'oltre cortina però a un certo momento l'idea della Thatcher che è un po' la grande iniziatrice del neoliberismo diciamo prende piede per cui non essendoci alternative tanto vale buttarsi accettare ecco il risultato di tutto questo è che negli ultimi 30 anni dati alla mano va beh lo sapete lo sappiamo tutti meno del 5 per cento credo del degli uomini della terra hanno in mano quasi l'oltrante 90 per cento delle ricchezze per cui viviamo come se fosse tutto normale in realtà il livello di diseguaglianza è arrivato a un punto tale che le cose sono sicuramente fortemente migliorate per una minoranza e fortemente peggiorate per la maggior parte delle persone quindi non so se ci siano alternative a me piacerebbe cercarle forse le dobbiamo cercare ecco accettare rassegnati questo tipo di dimensione lo trovo piuttosto deprimente detto questo che che tipo di taglio volevo dare oggi al discorso è chiaro che il feticismo delle merci si pongono tutta una serie di problemi che sono ancora aperti e che meritano secondo me una forte una fortissima riflessione io oggi proporrò brevemente di sollevare dei problemi su cui sto facendo ricerca ci sto riflettendo sopra cioè non ripeterò le cose che ho studiato in vari anni cerco un po di cogliere un punto che mi pare in questo momento estremamente problematico rispetto al mondo in cui viviamo il mondo delle molde supermercato di facebook della vendita dei dati della mercificazione di tutto appunto a domandarsi in che mondo viviamo non è che è così chiaro poi tutto sommato non è così chiaro ecco volevo partire è chiaro che il carattere vi dice la merce e il suo arcano ha un significato lo riassumo velocemente c'è questa dimensione che coglie genialmente marx per cui le merci ti nascondono qualcosa è molto semplice in realtà è complicato in realtà è molto semplice quando io se io vado al supermercato e vado a comprare che so il burro qualunque cosa il salame il burro gli auricolari qualunque cosa banale ti serve quello che uno fa e di solito che cos'è a parte il fatto che di solito quando assume il mercato compra sempre il doppio delle cose dovrebbe comprare ma a parte quello che però ha anche un significato qual è il punto reale il punto che non torna e che però ci sembra la cosa più naturale del mondo è che quando tu prendi l'auricolare o la fetta di salare qualunque cosa un libro tu prendi l'oggetto lo compri anche un bambino piccolo subito glielo insegna sa che cosa deve fare prende dei soldi va in casa prende prende l'oggetto va dal cassiere gli da dei soldi fa il ticket e c'ha l'oggetto cioè fa uno scambio quello che si perde in questa operazione immaginifica di solito spettacolare di solito quando uno fa al supermercato c'è questa cosa per cui vede che c'è tutto può tutto potrebbe prendere tutto è una cosa che subiamo tutti poi fondamentalmente questa forma di esposizione che cosa succede succede che noi non ci accorgiamo mai perché non fa parte del gioco non ci accorgiamo del fatto che l'auricolare il salame il burro sono frutti del lavoro e di un lavoro complesso un lavoro estremamente complesso che ha una storia lunghissima alle spalle sapere fare il burro non è così semplice e probabilmente ha anche livelli di potente sfruttamento magari gli auricolari sono stati fatti in thailandia in cina a livelli bassi che si fa più profitto tu di questo non ti accorgi perché il meccanismo che è determinante è il fatto che tu prendi l'auricolare sei convinto di andarlo a prendere perché ti serve cioè perché lo devi usare in realtà siccome trovi poi 50 forme di auricolari gialli blu verdi fatti una certa maniera trovi sempre una via di mezzo fra quanto costa e l'estetica di solito non ce ne rendiamo conto ma nel 90 per cento dei casi prendiamo quello che ci dicono di prendere anche se non ce ne rendiamo conto perché il sistema pubblicitario è molto subliminale gioca moltissimo sull'estetica e sul senso estetico e quindi questo ha un aspetto fortissimo diciamo nella scelta e funziona col sistema di concorrenza tutti i detersivi sono fatti nella stessa maniera il sapone lo stesso lo fa una sola fabbrica di solito è l'additivo che rende diverso il detersivo x dal detersivo y ma tu non è che lo prendi perché sai effettivamente che l'additivo ti rende magari quell'additivo il cartone o la cosa è arancione oppure hai l'idea che siccome costa un cento meno riesci in qualche modo a fare la furbata di non farti fregare è un gioco classico di mercato ecco quello che emerge nel feticismo è proprio lo scambio delle cose che non si vedono cioè uno pensa che il prezzo di un oggetto sia la proprietà di quell'oggetto e che si può scambiare con che cosa col denaro e che cos'è il denaro è l'equivalente generale cioè è la potenza di tutto quando tu hai un sacco di soldi o anche hai pochi soldi anche 5 euro o 10 euro 20 euro il momento di gioia che provi è il momento della potenza cioè quanto ancora non l'hai scambiato puoi fare un sacco di cose anzi qualche volta c'è un problema a scambiarlo perché poi perdi questo senso di piacere che è il desiderio che si forma prima del bisogno poi lo scambi con un bisogno e lo spendi però il dato di fondo è la potenzialità il desiderio che non è il bisogno il desiderio non si soddisfa ma è quello che ti spinge verso la dimensione dell'attrazione simbolica delle cose il lato estetico delle cose a istesis significa sensibile sensibilità il lato di senso il lato erotico se volete anche che è molto forte che è un dato di civiltà e di cultura e che è diverso rispetto al bisogno il sesso è un bisogno l'erotismo non è un bisogno è un desiderio ed è un fatto culturale mangiare è un bisogno la cucina è un desiderio ed è un fatto culturale ci vogliono secoli per determinare un piatto e farlo come viene fatto non è così ovvio ma il sistema di effetti del feticio delle merce fa sì che il desiderio ha quasi sempre la meglio sul bisogno il che non è un male in sé diventa un male nella misura in cui questo un male diventa un forte problema nella misura in cui questo diventa un interesse economico basato fondamentalmente su ciò che non si vede cioè lo sfruttamento l'uso degli uomini eccetera eccetera allora perché tutto questo un po semplificato in realtà il discorso delle merci del feticio delle merci è ovviamente parecchio più complesso però era solo per capirci perché tutto questo discorso ci pone un problema di tipo teorico che a mio parere interessante anche un po insomma non facilissimo da affrontare e mi riferisco a un dato di fatto che è un dato della modernità se io volessi datare questa cosa forse la datorei al 1851 anno in cui si fa la prima esposizione universale si dice cioè si fa a londra poi negli anni si fanno a parigi fino all'espo di milà cioè è una tradizione che risale il primo momento del 1851 siamo nella fase in cui le merci si possono esportare perché la prima forma di globalizzazione viene assicurata dalla rete ferroviaria oltre che dalla navigazione e a un certo momento cosa sono le esposizioni universali che si fanno in questi palazzi di vetro sono le merci che si mostrano e si mostrano al mondo in un posto sono uno spettacolo sono l'elemento spettacolare della cosa i filosofi del 1800 tutti dicono tutta l'europa si muove per andare ad adorare il feticcio della merce perché è il meccanismo potentissimo l'estetizzazione potentissima del dato di fondo che l'esposizione universale tutte le merci arrivano da tutte le parti e in sostanza l'esposizione universale anticipano quello che è la nostra realtà di oggi che non ha bisogno più soltanto di esposizioni nell'esposizione vedere le primizie diciamo di tutto della tecnologia come della frutta ma il fatto che oggi noi in qualche modo abbiamo tutto in simultanea le banane l'abbiamo tutto l'anno pure le ciliegie perfino le arance cosa che a me essendo siciliano mi disturba tantissimo perché ma insomma c'è questa dimensione ormai della non temporalità della della simultaneità solo che non si vede come mai avviene questo non si vede il fatto che questo avviene grazie al fatto che si fanno nel mondo le monoculture devastando civiltà intere in modo di vita ma dice vogliamo tornare indietro no neanche per idea non nessuno vuole tornare indietro però chi paga il prezzo di tutto questo questo è una domanda ovviamente che uno si può fare o non fare se uno non se la fa non se ne fa un problema dice che mi chi se ne frega se la sono voluta quelli che l'hanno subito chi invece si diciamo pelo nello stomaco probabilmente si pone un problema chi per esempio è legato a un principio di eguaglianza un problema di questo genere se lo pone e se lo pone il rapporto alla libertà la libertà che cos'è fondamentalmente come principio ciò che tu usi per te stesso fregandoti degli altri anzi nonostante gli altri possibilmente utilizzandoli oppure no sorgono tutta una serie di problemi filosofici e anche politici un tempo erano filosofici e politici oggi più filosofici che politici perché non mi pare che in politica ci sia una grande discussione a questo livello in questa fase che chiaramente ti pone un problema la questione teorica che però io volevo porre è proprio questo dato che significa che le merci si espongono e danno spettacolo che cos'è lo spettacolo perché tutto è spettacolo oggi la politica è spettacolo di maio e salvin e renzi che si litigano sono spettacolo le trasmissioni televisive dove dicono le male parole sono spettacolo tutto diventa spettacolo la democrazia ammesso che si possa ben parlare di questo diventa spettacolo la capacità del leader di sapere portarsi dietro le persone diventa spettacolo esattamente come lo era quando c'erano i dittatori solo che ora non c'è il dittatore assoluto ma ci sono i leader che vengono acclamati magari facendo battute via facebook c'è una trasformazione enorme da questo punto di vista oggi in politica tutto è spettacolo oggi un capo del governo un leader manda su twitter un messaggio e anticipa tutte le procedure democratiche possibili per prendere la decisione nessuno se ne accorge però è così gioca spostando ma non lo fa solo salvini lo fa anche renzi lo fanno tutti è un meccanismo di cui quasi non ci si accorge ma lo fanno da tutte le parti come se fosse naturale allora che cos'è che volevo sollevare io volevo partire da un dato che è un dato che riguarda marx di cui si è accorto con grande capacità di occhio un filosofo contemporaneo importante io condivido solo alcune cose sue altre secondo me mi pongono problemi che comunque è importante che è Jacques Derrida scrisse un libro negli anni 90 subito dopo la caduta del muro in berlino quindi con grande coraggio intellettuale non è che subito si mise lì a dire ah ecco prende le difese di marx nello stesso momento in cui c'è un'aria insomma si muove controcorrente obiettivamente e a un certo punto scrive questo libro che si intitola spettri di marx forse l'ultimo bel libro a mio ponere che ha fatto Derrida poi secondo me le cose si sono un po' complicate perché è interessante questo libro di Derrida spetti di marx perché si rifà a un'immagine che utilizza marx che è interessantissima e che è l'immagine che utilizza marx nel feticismo delle merci cioè esattamente e la utilizza proprio per cercare di rendere comunicabile quello che sta cercando di dire e si tratta del fatto che quando parla di feticio delle merci marx evoca un tavolo esattamente evoca un tavolo che danza e perché evoca il tavolo che danza perché lui pubblica siamo nella seconda metà dell'ottocento anni sessanta poi anni settanta l'ottocento in tutta Europa impazzano le sedute spiritiche come diremmo oggi sono di moda lo sono ancora ma prima erano proprio di moda nel senso che era una cosa c'erano proprio figure di medium anche negli Stati Uniti impazzavano le sedute spiritiche e uno degli elementi spettacolari di una seduta spiritica era i tavoli che danzavano se ci sei batte un colpo parlavano battendo e muovendosi e quindi con questo naturalmente le persone pensavano di parlare con i morti o di far parlare i morti e il medium era quello che parlava al posto dei morti faceva muovere questi tavoli parentesi il modello tavolo danzante non era un modello mistico era un modello scientista era la perfetta espressione di una filosofia di un modello di un modello positivista perché la seduta spiritica non è avere una dimensione mistica è la prova scientifica dell'immateriale un'impossibilità c'era l'ectoplasma c'era un sacco di cose cioè di considerare materiale ciò che è spiritico quindi da questo punto di vista è da un punto di vista religioso è un assurdo tra l'altro da un punto di vista mistico è un doppio assurdo il misticismo è un'altra cosa allora cosa fa cosa fa notare Derrida la filologia è importante perché sembra dice in realtà dice racconta di questa storia del tavolo che Marx utilizza dice che cos'è un tavolo c'è un tavolo quando è valore d'uso dice Marx è un tavolo è questo qui è una roba ti ci siedi ti serve un tavolo di legno era una materia che era legno qualcuno aveva in testa la forma di tavolo è un brave falegname dalla testa alla mano ha trasformato il legno in un tavolo fin qui niente di strano è il lavoro perché il tavolo è un frutto culturale del lavoro culturale perché per saper fare malegname devi sapere devi sapere il modo come si fa un tavolo e deve averlo in testa nella forma quindi c'è questa dimensione il problema che dice però quando il tavolo viene prodotto per essere venduto a un certo punto si mette a danzare come un tavolo delle salute spiritiche addirittura si rovescia quindi fa cose spettacolari diciamo inconsuete e perché si rovescia ed è questo il punto ma ci arrivo il problema è che un tavolo quando il valore d'uso è fatto di legno una materia che prende forma di tavolo cioè si trasforma è il frutto di una trasformazione di un mutamento di forma e però resta legno materia e sottolinea Derrida accade del tutto differentemente scrive Derrida giustamente quando diventa merce questo tavolo quando il sipario di un mercato si apre notate il sipario di un mercato siamo a teatro e il tavolo è a un tempo dice Derrida attore e personaggio ed è vero quando il tavolo merce dice Marx ecco il punto entra in scena allora qui c'è un problema filologico perché tutte le traduzioni italiane traducono correttamente ma non mettono entra in scena per esempio il traduttore più accreditato che è Candelio Cantimori dice si presenta in realtà il termine tedesco è off treat off threaten che significa si si presenta ma significa entrare in scena ed ha più senso nel discorso di Marx tradurlo quindi non lo si trova nella traduzione Derrida ha ragione da questo punto di vista e ha più senso tradurlo con il tavolo che entra in scena è un attore un personaggio si mette a ballare perché c'è un sipario c'è un teatro e lì si mostra si fa vedere e si fa vedere in un certo modo perché poi vediamo che significa attore e personaggio in questo gioco si mette a camminare e a farsi valere come un valore di merce colpo di scena la cosa sensibile ordinaria si trasforma diventa qualcuno prende figura quindi il tavolo in quanto è merce dall'essere banalmente un tavolo frutto del lavoro eccetera diventa qualcos'altro si espone si dà si vende potremmo decalare ulteriormente questo vendersi perché arriviamo a livelli in una società in cui tutto si vende sappiamo bene come uno dei grandi problemi è capire quali sono i limiti del vendersi e qual è il rapporto fra vendersi e libertà prostituirsi e libertà sicuramente è un vendersi e quindi si pongono dei prostituirsi non nel senso delle donne si prostituisce tutte ci si prostituisce in un certo senso nel senso che comunque siamo tutti sottoposti a uno scambio diciamo comunque la vogliamo mettere e tutto viene giocato sui limiti di tutto questo e sulle regole che devono fermare il limite e spesso non ci riescono vedi lo sfruttamento per esempio vedi la violenza vedi tutta una serie di cose che vanno continuamente oltre tutto questo Marx dice che la merce però e questo è interessantissimo dice che diventa una volta che è diventato il tavolo che è diventato merce diventa qualcosa di sensibile sovrasensibile sembra un termine un po' quasi ossimorico cioè tu dici una cosa sempre il contrario è sensibile e sovrasensibile invece no ha un significato perché Marx sta dicendo in sostanza che è una cosa sensibile tu il tavolo il burro il salame lo vedi te lo mangi lo tocchi è sensibile quindi è materiale ma anche fosse immateriale sarebbe sensibile non è un problema però contemporaneamente è sovrasensibile perché quello che rappresenta è qualcosa che va oltre la dimensione sensibile ed è il valore di scambio il fatto che una merce viene quotata classificata posta entra in relazione con altre merci entra in relazione col denaro costruisce delle relazioni va molto di moda la parola relazione anche giustamente costruisce delle relazioni che si presentano come relazioni fra cose piuttosto che come relazioni fra persone assumono la loro autonomia letteralmente si muovono per come si devono muovere ora Derrida questa cosa la pone giocando molto su un aspetto che non è soltanto quello teatrale ma che è quello teatrale ma nello stesso tempo anche quello spettrale parla di fantasma c'è qualche cosa di fantasmatico nel discorso perché Derrida ha in mente cosa ha in mente Shakespeare ha in mente l'amletto ha in mente la dimensione fantasmatica lo spettro il padre come fantasma perché la dimensione fantasmatica è una dimensione molto particolare perché è una presenza dell'assenza è qualcosa che rappresenta qualcos'altro che non c'è ma nello stesso tempo rappresentandolo non si istituisce a lui il fantasma non è il padre è il fantasma del padre qualcosa di simile e diverso nello stesso tempo e il tavolo è anche questo effettivamente è fantasmatico perché da un lato è un tavolo che tu ti sembra la cosa più naturale un tavolo lo usi ma se lo devi vendere al mercato diventa fantasmatico è qualcos'altro avete presente la pubblicità le poltrone sofà continuamente noi siamo bravi artigiani della qualità quelle robe lì è curiosissima buffissima un po' provinciale però ha questo dato cioè cerca di mostrarti il lato della qualità del lavoro nello stesso momento in cui ti produce dei divani che vanno venduti quindi è una messa in vendita chiaramente quindi è un gioco quasi fantasmatico quelle poltrone o quei divani vanno venduti e loro li producono per venderli fin qui non c'è il capitalismo è normale che uno li produa per vendere il capitalismo naturalmente non parte da questo il capitalismo parte dal fatto che per produrre queste divani o queste magari l'imprenditore lì sarà fantastico favoloso avanzato di solito si costruisce profitto e plus valore quindi lo si fa per un profitto e quindi anche per lo sfruttamento delle persone sfruttamento delle persone che non è il fatto che vengono sfruttate brutalmente è un sistema lo sfruttamento e la produzione di profitto non deriva dal fatto che l'imprenditore gli dà di meno questo anche ma secondo Marx non è che conta soltanto cioè non è che il problema è gli si dà di meno bisogna dargli di più questo fa parte della contrattazione sindacale cioè è un affare di mercato non è questo il punto certo è anche questo è chiaro che se un imprenditore fa lavoro in nero fa assolutamente doppio e merita di finire in galera ma non è solo questo perché se anche lo facesse legalmente in ogni caso lui si prende qualcosa che non è suo e non è il lavoro del singolo lavoratore è il livello il sistema cooperativo cioè la mise ensemble di tutti i lavoratori anche se si trovano in quattro parti del mondo non cambia la sostanza che permette il fatto di produrre un oggetto in condizioni tali per cui tu ci puoi ricavare qualcosa di più della somma di ciò che hai dato agli operai anche se hai dato agli operai il giusto valore di solito questo si trascura è quello che si chiama la cooperazione il sistema cooperativo perché il lavoro non è il lavoro del singolo il lavoro è sempre cooperativo sia storicamente quando tu hai depositi tutto il sapere che hai dentro sia dal punto di vista del lavoro effettivo perché la mise ensemble comporta sempre l'aspetto quello che Marx chiamerà nel capitale giustamente lo sviluppo della facoltà della specie dove l'individuo si libera dai suoi limiti individuali che è la cooperazione progettata fai un progetto e lavoriamo tutti insieme cosa che facciamo regolarmente spesso quando facciamo volontariato o ci mettiamo insieme il problema del capitale è che questo aspetto cooperativo di solito è organizzato dispoticamente il capitalismo è disponibile anche a darti il salario se è costretto ma non ti darà mai mai l'organizzazione del lavoro non te la darà mai perché quello è il dato di fondo fondamentale cioè il modo come si lavora e si mette insieme Robinson Croso quando a un certo punto schiavizza venerdì perché gli è grato che l'ha salvato e quindi diventa il suo schiavo e si chiama venerdì eccetera come dire quando arrivano i nemici il fucile glielo dà ma non gli insegnerà mai a come caricarlo perché questo è proprio il lato di confine del dominio e della colonizzazione il problema dell'appropriarsi del lavoro ha questo significato aveva oggi quasi non si pone ma ha questo significato forte io mi riapproprio del lavoro nel senso che mi riapproprio delle condizioni del lavoro la vera battaglia che si è persa è che quella centrale riguarda questo non il singolo che diventa imprenditore di se stesso è precario è tutta una discussione ma è tutta basata sono tutti risultati del fatto che si perde il fatto che è la dimensione cooperativa quella che è centrale nella facoltà umana che viene risucchiata cioè il sistema capitalistico è tale per cui riesce a utilizzare la migliore facoltà degli uomini in chiave di sfruttamento questo è il punto spesso sottovalutato come questione e non conta che non sono tutti riuniti alla Fiat come una volta anche se i vostri vestiti sono stati fatti per un pezzo i bottoni in Thailandia un altro pezzo in Cina e un altro pezzo a Ceylon non cambia diventa un problema politico ma sul piano del sistema capitalista non cambia il fatto che è un modo cooperativo organizzato da chi poi vi firma il vestito questo si dimentica spesso quasi sempre volutamente ora Derrida mette insieme l'immagine dello spettro e la teatralità altamente legittimata da Scespia e dell'Ameleto l'immagine dello spettro richiama il tema del simulacro cioè di un'immagine che non ha referente e qui siamo proprio in piena non è copia di nessuno originale ciò che hanno sostenuto filosofi giustamente come Deleuze Baudrillard quando Marx dice del tavolo in quanto merce che è sensibilmente sovransensibile mettendo l'avverbio sensibilmente pone l'accento sulla materialità cioè su un referente che non è originale ma un supporto corporeo o può essere anche non corporeo anche il lavoro intellettuale ha la stessa questo Marx l'aveva tra l'altro intuito sostenuto e teorizzato non è uno spettro e neanche un simulacro è la forma tavolo l'immagine tavolo che ha un contenuto materiale ma è sovrasensibile non tanto perché ha una forma quanto perché quel tavolo ha un valore di scambio e perché il tavolo ha un valore di scambio che il suo essere è rappresentazione e questo è il punto il suo essere è rappresentazione eccede la realtà mentre la rappresenta eccede la realtà ogni forma di rappresentazione va sempre oltre la realtà oggi la possiamo chiamare iper realtà intendo dire qualunque forma di rappresentazione non è una copia un riflesso di ciò che viene rappresentato mai salvo nella produzione in serie quando tutti gli oggetti devono essere uguali perché devono essere lo stesso prezzo ma questo non è rilevante il vero problema è quando la rappresentazione la forma rappresenta questo è un problema estetico è cognitivo eccede la cosa rappresentata rappresentandola insomma un quadro il più realistico possibile un quadro di Courbet il maestro del realismo che ripresenta ripropone realisticamente una vicenda un funerale come fa il quadro non è lo specchio il riflesso puro della realtà che rappresenta è qualcosa che eccede la realtà perché c'è una rappresentazione e quello che conta è la rappresentazione di Courbet il cui referente è quel funerale che è avvenuto questo vale anche per la fotografia nel tempi di Courbet che è contemporaneo di Marx fra l'altro si pensava che giustamente il realismo e giustamente si pensava che non è la copia del reale il realismo è un'interpretazione della realtà dove i protagonismi non sono più gli eroi accademici ma sono le persone della vita comune la stessa cosa accade con il neorealismo cinematografico del secondo dopoguerra con De Sica e Rossellini non è che riflettono la realtà nel senso scelgono pezzi di vita che sono pezzi di vita quotidiani il realismo è questo Balzac è realista per questo non perché fotografa la realtà anche se da un quadro sociologico è interessantissimo e nell'ottocento si diceva la realtà il realismo è un'interpretazione della natura la fotografia è diverso dalla fotografia perché la fotografia invece non va bene tanti si oppongono alla fotografia con qualche ragione fra l'altro con qualche ragione ora bisognerebbe fare un lungo discorso però Rodin Baudelaire si oppongono non si oppongono nel senso che la negano dicono che non sostituisce affatto il realismo della pittura grossomodo dicono questo e hanno anche ragione però noi sappiamo che appunto la fotografia non è il puro riflesso la fotografia è un'interpretazione anch'essa del mondo secondo l'inquadratura che fai come la tagli come la leggi la fotografia non è mai neutrale e quindi per ogni tipo di rappresentazione non esiste tecnicamente la rappresentazione che ti avvicina sempre più al reale il realismo è un modo di farti vedere le cose con vari mezzi che può essere il cinema il cinema realistico non è il documentario lo stesso documentario è un'interpretazione perché tu scegli un campo chiaramente perché il tuo punto di vista è sempre limitato tu inquadri qualcosa quindi la rappresentazione è sempre un eccesso questo che cosa vuol dire questo è un problema che riguarda la questione delle merci e del feticismo perché se è così il grande problema non è eliminiamo il feticismo delle merci eliminiamo il valore di scambio e ritorniamo a un mondo trasparente dove noi abbiamo un giusto rapporto con le cose Marx è stato ambivalente su questo ma era il suo periodo il grande problema non è questo il grande problema è se ogni forma di rappresentazione ha un referente perché deve avere un referente è però ciò che viene negato dalla filosofia e dall'urbanistica e dalla tradizione cosiddetta postmoderna il postmoderno in realtà pensa che tutto sia sullo stesso piano ecco come dice Friedrich Jameson nel postmoderno come posso dire c'è c'è il pastiche il pastiche è quello che conta c'è un po' il blob tutto mette allo stesso piano l'imitazione la copia l'originale il new age non c'è differenza è quello che prevale fondamentalmente ancora oggi in un certo senso è il pastiche e diciamo così il punto di riferimento teorico politico ed economico del pastiche è secondo me il limite della filosofia che interpreta la merce come puro simulacro dove non c'è il referente questo secondo me è il limite che troviamo in Deleuze da mio parere in Baudrillard autori che io rispetto da cui ho imparato però oggi secondo me dobbiamo andare oltre queste cose dobbiamo spingerci è finita perché le teorie e lo dico così con amore anche perché sono autori per me che sono stati importantissimi e lo sono ancora come Foucault fondamentale attenzione Deleuze Baudrillard sono l'estrema propagine filosofica un po' come Andy Warhol nel campo dell'arte o forse Duchamp cioè sono l'estrema propagine oltre la quale però tu non riesci a uscire da un modello politico dove l'unica referente possibile è la pura resistenza individuale rispetto a un potere che ti divora e questo secondo me è un limite è stato è un limite estetico artistico è stato secondo me ormai io lo sento come un grande limite politico nel senso che non basta e allora e chiudo si potrebbero dire molte cose ma chiudo su un punto c'è questo critico letterario americano che si chiama Friedrich Jameson di grande spessore che appunto da lì che io ricavo il termine pastiche che lui contrapone moderno e postmoderno proprio in questa chiave cioè nella chiave per cui il postmoderno sarebbe il pastiche il moderno sarebbe la profondità e lui dice a un certo punto cos'è la profondità che è una cosa che viene rifiutata dall'arte contemporanea che pone dei problemi poi lì bisognerebbe vedere quale arte come per esempio Cezanne non ce lo metterei in the world sì ma insomma sarebbero il rapporto interno esterno e senza apparenza latente manifesto autenticità in autenticità significante significato sono giochi in cui c'è questa dimensione dell'apparenza essenza cioè tu hai un'apparenza una superficie e poi c'è una dimensione profonda Marx si muoveva anche in questo senso il grande problema era se tu trovi la condizione di profondità una volta che l'hai trovato cosa fa? si emerge in primo piano e hai tolto questa dicotomia oppure no? io penso che non si possa togliere ma che debba rimanere il referente allora questo vuol dire che dobbiamo uscire dal pastiche e forse dovremmo ritornare a temi e teorie che ricomprendano la profondità come elemento centrale profondità significa guardare lontano cominciare a uscire dalla pura dimensione dei due piani e cominciare a vedere se c'è una terza dimensione che è quella della prospettiva futura quindi io penso che se noi recuperiamo il tema della profondità dov'è la profondità e ritorno e chiudo la profondità secondo me va cercata proprio in quello che dicevo all'inizio cioè va ricercata in quell'aspetto che non si vede io vado al mercato piglio il burro e non so da chi è stato fatto non me ne frega nemmeno da chi è stato fatto e chi l'ha fatto e come è stato fatto l'importante è che c'è scritto che è stato fatto con le regole e poi ciao bisogna ritornare a chi l'ha fatto cioè la dimensione di profondità è il fatto che dobbiamo ritornare a mettere in primo piano il lavoro l'elemento cooperativo del lavoro il fatto che l'elemento centrale per gli esseri umani è la loro senso di autonomia collettiva e di libertà è riappropriarsi del lavoro collettivo e cooperativo quindi bisogna ritornare non rimanere soltanto a livello della mall del supermercato di questo mondo in cui tutto viene esposto tutto si dà tutto è vendibile ma a mio parere bisogna riaprire un discorso forte ritornando anche a modelli che probabilmente sono stati abbandonati naturalmente ritornando a un moderno che ha digerito e ripreso il postmoderno non negandolo sia ben chiaro ritornando ai modelli che sono i modelli della importanza del lavoro cioè di quell'elemento così centrale così profondo che sparisce nell'ambito della nostra vita scompare non c'è perché ciò che ci appare è la vita libera il tempo libero salvo poi morire salvo poi le notizie però di fatto non hai mai questa sensazione che la vita è fatta del produrre fare trasformare la natura e le cose insieme io penso che dobbiamo ritornare a livelli di profondità cioè uscire dalla dimensione del pastisci perché la dimensione del pastisci è proprio la dimensione a mio parere la più come posso dire la più corrispondente al modello neoliberista perché del modello neoliberista non prende soltanto gli elementi negativi prende anche quello che appare come l'elemento di rottura e qual è l'elemento di rottura essere eversivi per diventare omologhi come io dico spesso a lezione quando vedo i jeans rotti dei ragazzi va benissimo sono anche esteticamente sono diventati un fatto estetico un tempo la mia generazione era un fatto di rottura perché nessuno voleva girare più con giacca e cravatta quando ci si andava a 18 anni quindi benissimo la rottura oggi è il moda cioè un fatto di omologazione il sistema neoliberista come si capisce è capace di divorare di risistemare continuamente tutto e di riciclarlo e di trasformarlo in affare ma se noi rimaniamo a livello della spinta del singolo che va benissimo da un certo lato ma è tutto sommato digeribile alla fine e addirittura diventa una spinta perché lo stesso neoliberismo possa riciclarsi e riconsiderarsi io penso che dobbiamo ritornare a dimensioni di profondità legata a forme cooperative e collettive nel momento in cui lo scopo dovrebbe tornare a essere quello di riappropriarci del lavoro non di rifiutarlo grazie